Il giorno di Bachita, la schiava africana arrivata agli onori degli altari, Francesco ricorda la tratta degli esseri umani. La patrona delle vittime del commercio di vite è ricordata dal Papa durante l'udienza alla Fondazione Galileo, che riunisce benefattori irlandesi, inglesi e americani, finanziatori quest'anno proprio di una mostra fotografica sul dramma degli uomini e delle donne venduti per denaro. Il Papa, da sempre impegnato nella denuncia delle nuove forme di schiavitù, ha chiesto alla Rete Mondiale di Preghiera di pregare per chiunque cada vittima di questo crimine orrende. Di fronte a questa realtà tragica, nessuno può lavarsi le mani, ammonisce Francesco. nel video preparato per il mese di febbraio. In tarda mattinata, torna sul dramma che coinvolge, secondo stime ufficiali, ma ribasso oltre 45 milioni di persone nel mondo, incontrando i nomadi del Vangelo, missionari e missionarie d'Africa, a cui chiede di seminare speranza, lottando contro ogni forma di schiavitù e facendosi prossimi ai poveri. Aprendo la giornata nella cappella di Santa Marta, il Papa, commentando il martirio di Giovanni Battista, aveva ricordato la giusta posizione di chi non vuole riconoscersi nel re corrotto, Erode, nella donna setata d'odio, erodiade e nella fanciulla presa dalla sua vanità, Salomè. La vita ha valore solo nel donarla, nel donarla nell'amore, nella verità.